Ciao a tutti, io sono Fadi, sono nato e cresciuto a Pavia, mi sono trasferito a Londra per continuare gli studi, ho vinto una borsa per andare a fare un master in economia con Saido e Palo e ho fatto il master e poi mi sono fermato lì a fare un dottorato in sviluppo economico. Ciao, io sono Paolo, sono crescito a Roma, mi sono trasferito a Londra per la prima volta nel 2001 per venire qui a fare gli studi universitari e dopo il master a LSE con loro ho iniziato a lavorare come economista per l'inglese e in particolare al tesoro. Ciao a tutti, sono Salvatore, sono di un paese della provincia di Salerno, mi sono spostato a Roma per la triennale della specialistica, dopodiché sono stato a Londra per un master in economia alla LSE fatta con Fadi e Paolo e dopodiché ho vinto una borsa per andare a fare un dottorato in economia all'Università di Oxford. A Londra avete dato vita ai quattro gatti, il nome come è nato? Il nome è nato più che altro per esigenza, ne avevamo bisogno, dovevamo creare un sito web e a me è venuta l'idea, l'ho proposta agli altri, era la migliore, quelle loro erano un po' più noiosi, ma stavamo sparandomi a casa, venendo fuori... Vabbè, loro erano un po' noiosi, la mia era un po' più simpatica, quindi abbiamo votato per la mia. Quattro gatti nasce da un'idea di Paolo, manda un'email ai ragazzi e le ragazze che studiavano economia alla LSE e ci siamo ritrovati intorno a un tavolino di un bar discutendo della necessità di chiarire un po' alcune argomentazioni economiche di cui si sentiva spesso parlare nella campagna elettorale del 2008. Da lì è nata l'idea di mettere insieme delle informazioni in modo semplice, chiaro, lineare delle slide, delle diapositive in PowerPoint, di farne un file e diffonderlo agli amici alla nostra lista di contatti via email. Da lì è nato un successo un po' inaspettato, abbiamo capito che c'è una quantità di gente che vuole questo tipo di informazione e un po' per gioco abbiamo scoperto questa cosa, abbiamo cominciato a pensare all'idea di creare un sito web quattrogatti.info, di continuare l'esperienza di questo progetto. Quattrogatti è un sito che fa informazione, vuole fare informazione in maniera semplice e rigorosa. La particolarità di Quattrogatti poi è che rispetto agli altri siti che fanno informazione sul web, che noi usiamo mezzi di comunicazione multimediali come i PowerPoint e video, che probabilmente ci consentono di essere un po' più efficaci dal punto di vista informativo e comunicativo per trattare temi un po' più complicati e di attualità sociale, diciamo. Penso che questa sia la cosa che differenzia quattrogatti appunto nel panorama web e di informazione su web. Chi siamo ora? C'è un gruppo di autori fondamentalmente che sono giovani professionisti e studenti e poi abbiamo tutta una serie di collaboratori, tra cui videomaker per le animazioni video, abbiamo webmaster, abbiamo gente che ci fa editing delle presentazioni PowerPoint, gente che si occupa della diffusione delle presentazioni su social network eccetera. C'è da dire che appunto facciamo tutto a titolo gratuito e mettendo a disposizione la nostra professionalità, le nostre conoscenze per fare informazioni. Il modo in cui reperiamo le nostre informazioni, i nostri dati è abbastanza semplice. Internet è sicuramente lo strumento più veloce e efficace. Facciamo affidamento ovviamente a molti studi e ricerche già fatte da tanti ricercatori italiani in tutto il mondo, in Italia, professori, centri di ricerca, fonti istituzionali come la Banca d'Italia, l'Istat, l'Ox, l'ONU, la Banca Mondiale eccetera. Noi non inventiamo nulla di nuovo, reinventiamo forse il modo di comunicare le ricerche che vengono effettuate. in Italia in Italia in Italia